Ciao a tutti raga e benvenuti nei miei nuovi video, sono il vostro Recolli e continuiamo la serie Final Fantasy. Siamo arrivati alla caverna di fuoco dove sosterrò l'esame. Qua devo fare l'esame, io so già quale esame, però voi forse non lo sapete, però andiamo a fare lo stesso. Sembra tutto a posto, in realtà no. Ammazza che è quella bestia. Ehi, Animeta è un leone, quei leone di fuoco. E' un problema, affronteremo tutto tutti. La prima cosa, questo che ti fu, la debolezza è il ghiaccio. Quindi, togli di più. Tutta una debolezza. Intanto voglio vedere quante ho di potenza, il livello di combattimento. 1068. Va bene, ho capito, dai. Avversario fuoco, debole è il ghiaccio. Lo batterò come niente. Se uso sciva. No. Mi tolgo di più. Ti pare, va che veniva con te di me. Polvere di diamanti. Cioè, manco fosse cristal del cavaliere dello zodiaco. Polvere di diamanti. Si. Ah, però, però. Esciva. Te male. Tutto il 39. Stanno il 36. Ma che sia? Sì. 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 Poi si va avanti. Più diventi potente. Bisogna attaccare sempre. Ehm. Ehm. Sta voce. Sta finendo. Sto battendo. Niente male per non essere umano. Può dire che sto vincendo io. Che sei incazzato. Ma attaccacciamo per solo me. Ma è possibile. No, dico. C'è anche la prof. La prof. Per dirtelo. Usiamo il potere del ghiaccio stappunto. Ehm. Ma non mori mai. Va bene anche per il 1068. Di livello di combattimento. Eh. Questa volta mi ha ascoltato. Cioè. C'era anche lei. Oltre a me. Ma che va. In casa però. Ho vinto. Ho vinto. Sì. Ho fermo. Ibrido. Ehm. 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 Lo prendo. Tornato a casa. Sì. però è stato bello l'avventura nella caverna di fuoco, ho conquistato Nugger, Guardian Force, il freddo, dopo uscire il tal, il tuono, il ghiaccio, il fuoco, l'uno più bello dell'altro. Devo fare l'esame, non sa cosa mi aspetta, non sa poi cosa dovrò fare per passare l'esame, per essere promosso, per essere promosso, promosso. Bisogna essere promosso. Bisogna essere promosso. Comunque raga, ditemi nei commenti cosa ne pensate di Final Fantasy, mi raccomando. in questo gioco, ditemi cosa ne pensate. Sì, ma questo è uno Stalker. Oh, e battene! Cattigna! Mi do una patata in faccia. Venga lo Stalker qua, basta! Mamma mia, no! Venga, non! Non c'è, non c'è. Non c'è, non c'è. La ragazza l'ho trasferita da poco. Non c'è, non c'è, non c'è, non c'è. Ma io sono bastardo, e dico no. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. la guia, guia, guia la guia, guia, come era già? La guia, 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 guia Ancora Amma mia no e faccio flash sembra che sto godendo veramente flash era una canzone di Queen flash dedicata flash Gordon ovviamente, grandi film anni 70, anni 80 eh sì siamo due buoni a nulla siete dei buoni a nulla mortaci l'occhio ostro l'abbè io l'abbè io l'abbè io lì prego è ok biblioteca l'abbè l'abbè Non si corre il cammino, che fretta c'è. Strega di Estar, non so perché ne sentirò parlare ancora più avanti, molto più avanti di questa strega di Estar. Ok, non bisogna solo parlare. Sì, lo so, raga, è un po' noioso, lo so, ma poi, ho detto, andando più avanti nella storia con il Final Fantasy diventerà ancora più bello. Sono solamente dedicati ai combattimenti. No, però, questo è il gioco, eh, raga. Come capire? Dobbiamo sopportare. Intanto faccio dei tagli, così almeno accorcio un bel po'. Così faccio tutte le originalità, cioè non finisce più. Uff, bisogna andare a cambiarci. Non è che è cambiato molto, eh, da nero a blu. Stai, dai. Però il nero mi andava bene, cioè mi sentivo più a mio agio quel nero. Non è vestito a nero, va. Va bene, ho. Attenti, tu mi senti degli agini, studiate, che volete solo divertire. No, fai capire. Ragazzi, se vi è piaciuto questo episodio, lasciate un like e iscrivetevi al mio canale se non l'avete però fatto. Il link è in descrizione dei miei social. Ci vediamo alla prossima. Ciao.